ciao italiani vedo che oggi tanti in massa soprattutto romani laziali ci sono le partite oggi allora ho visto i controlli alla barriera di roma sud ho detto madonna c'è un attentato terroristico era strapiano di polizia pattuglie uomini a piedi macchine controllate dico madonna terrorismo oddio che succede no era per una partita è per una partita di calcio allora vi domando cari amici italiani se per una partita di calcio vi muovete in massa si muovono migliaia decine di migliaia di persone perché il 10 ottobre non venite a riprendervi la vostra patria signori dai dateci una mano 10 ottobre movimento liberazione italia col generale pappalardo dateci una mano italiani stiamo lavorando per voi stiamo lavorando per il vostro futuro e per quello dei vostri figli 10 ottobre fate conto come se fosse una bella partita di calcio il popolo contro il governo venite